Estendere l'istoria anche alle imprese artigiane e commerciali e questa la richiesta avanzata dalle associazioni di categoria siciliane CNA, Confartigianato, Casartigiani, Calai, Confcommercio, Confesercenti che con una nota hanno chiesto un incontro urgente al presidente della regione Renato Schifani e all'assessore alle attività produttive Edita Maio. In alcune zone hanno evidenziato le associazioni il servizio idrico è stato ridotto fino al 50% causando una crisi che ha costretto le imprese a trovare soluzioni alternative molto costose. Ad esempio un ristoratore ha dovuto pagare fino a 200 euro al giorno per rifornirsi di acqua tramite autobotti aumentando i costi di gestione in maniera insostenibile. I settori maggiormente colpiti aggiungono le associazioni sono ristoranti, barre e pasticcerie, panificio e produttori di pasta, produzione di bevande, hotel, affittacamere e b&b, acconciatori, estetisti, servizi di toilettatura per animali, autolavaggi e alcune categorie del settore manufatturiero. A queste, continua la nota, si aggiungono naturalmente le imprese agricole che però sono già oggetto di specifici provvedimenti da parte dell'assessorato all'agricoltura con incentivi per l'adozione di riserve idriche aggiuntive e ristori. Per gli altri comparti e in particolare per le categorie segnalate e sostengono le associazioni non è stato finora previsto alcun indennizzo nonostante siano sostenendo da mesi costi aggiuntivi per l'incremento delle risorse idriche e per il trasporto di acqua potabile e servizio fornito a pagamento da autobotti. Evidenziano inoltre che queste imprese, anche quando forniscono servizi essenziali, sono escluse dai provvedimenti straordinari della protezione civile. Quel che ritengono necessario è che il governo regionale aiuti le imprese artigiane e commerciali per i costi esorbitanti e sostenuti e che ancora continuano a sostenere a causa della crisi idrica in Sicilia, adottando come fatto dall'assessorato all'agricoltura misure volte a sostenere lo sforzo delle imprese per preservare il valore delle filiere produttive. In particolare aggiungono un'interruzione dei servizi delle imprese della filiera turistica comporterebbe danni incalcolabili alla reputazione dei territori e della Sicilia. Al governo regionale vengono chiesti provvedimenti urgenti per coprire i costi straordinari di approvvigionamento idrico delle imprese, l'implementazione di un incentivo per il servizio di trasporto di acqua in previsione di una turnazione prolungata del servizio idrico o nel peggiore dei casi di una sua interruzione e la costituzione di una unità di crisi per monitorare gli effetti sul sistema economico dell'isola.